La Direzione Generale ha riattivato i ricoveri della medicina. Il passaggio di una graduale riattivazione di tutto l'ospedale non può prescindere dall'apertura dei laboratori, almeno quello di ostetricia e ginecologia, in una fase di riavvio anche del nostro punto nascita. Per questo ho richiesto al Direttore Generale di mettere a disposizione ostetriche e ginecologi presso il nostro ospedale per poter dare una continuità assistenziale alle molte parti orienti dell'altopiano in questo momento. Ho richiesto altresì la riattivazione della pediatria con la presenza di un pediatra, almeno presso il pronto soccorso in orario diurno. Su questo abbiamo ottenuto importanti aperture da parte del Commissario Simoni, che ringrazio per l'impegno e l'attenzione verso il nostro ospedale, che tuttavia deve essere continuamente monitorato e deve esservi una presenza fissa di carattere dirigenziale per poter superare anche le molte criticità.